Nella stampa dei dischi volanti, tu devi sapere che il 54 a Firenze passò i dischi volanti quando c'era la partita nella Fiorentina e cascò tutta una bambacia bianca, bene, e se vuoi andare su Inter c'è tutte le forze. La ditta Garibaldo Ricciarelli di Pistoia del 55 a Marzo aveva inventato lo stampo dei dischi volanti, che è questo, e questo qui è sempre lo stampo lì che io lavoro sempre da allora, infatti se me l'ha detto qui c'è scritto Garibaldo Ricciarelli, vedi, la pasta entra di qui, prende il giro e esce di qui, qui c'è il coltello che taglia e il prodotto è questo qui, vedi?